Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Colgo l'occasione prima di iniziare il video per augurarvi ovviamente una buonissima Pasqua. Oggi siamo qui per parlare del GDL di Via Colvento, il gruppo di lettura che abbiamo iniziato un mese fa. Se non sapete di cosa sto parlando e siete interessati a capire quali sono le regole di questo GDL vi lascio il video nel quale ne parlo in maniera più specifica. Oggi comunque parleremo, anzi vi faccio vedere il mio libro subito, eccolo qua, parleremo della prima parte del GDL perché il GDL è diviso in tre parti. Oggi quindi parleremo dei capitoli che vanno dall'1 al 21 e ovviamente parlerò in maniera molto approfondita della parte che abbiamo letto questo mese quindi se non avete letto il libro o se volete leggerlo regolatevi di conseguenza. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che avrei piacere di avere i commenti di coloro che partecipano al GDL qui sotto a questo video in modo da poterne parlare anche in maniera un po' più diretta. Ovviamente possiamo condividere tutto quello che proviamo durante la lettura anche su Instagram però insomma questo è il video nel quale vi parlo delle cose che a me hanno colpito principalmente che comunque ho trovato più interessanti e che mi hanno fatto riflettere e sarei curiosa di conoscere le vostre, sia la vostra opinione su quello che dirò io e sia se ci sono state altre cose che vi piacerebbe sottolineare su questo libro. Direi di cominciare subito perché le cose da dire sono davvero tante. Parto facendo un brevissimo riassunto della prima parte del libro anche perché gli avvenimenti sono tanti quindi cercherò in realtà di essere molto molto stringata. Allora, la prima parte del libro si svolge tra il 1861 e il 1864. Siamo in Georgia, il libro inizia a Tara, una piantagione di cotone dove vive la nostra protagonista, Rossella O'Hara. Rossella O'Hara è una donna che è una ragazzina, anzi perché all'inizio del libro avrà all'incirca 14 anni se non sbaglio, quindi è una ragazzina che ama essere al centro dell'attenzione e ama essere il desiderio di ogni uomo che incontra ma in realtà il suo cuore appartiene ad Ashley. Infatti ben presto all'inizio del libro scopriamo che lei è innamorata di questo Ashley un ragazzo di buona famiglia che vive anche lui in Georgia e spera di poterlo sposare. Purtroppo però Ashley è fidanzato e viene annunciato pochi giorni dopo l'inizio della nostra storia con la cugina Melania, quindi diciamo che il libro comincia subito con una grande delusione d'amore. Rossella O'Hara è distrutta dall'essere venuta a sapere che il suo amato è promesso ad un'altra donna. Quindi lei che cosa fa? Nonostante cerchi di riconquistare il cuore di Ashley dichiarandogli il suo amore purtroppo non ci riuscirà e quasi per ripicca decide di sposare in maniera molto molto rapida il fratello di Melania, la donna appunto che sposerà Ashley, Carlo. Quindi in maniera molto frettolosa come ho detto si sposano i due anche perché proprio in quegli anni scoppia la guerra di secessione, quindi la guerra che vede in lotta gli stati del nord contro gli stati del sud. Carlo e Ashley e tutti gli uomini degli stati del sud devono andare in guerra e quindi il matrimonio si svolge in maniera molto rapida. Carlo morirà quasi subito purtroppo per una rosolia quindi nemmeno in combattimento e quindi lei si ritroverà a soli 15 anni, 16 anni più o meno non soltanto vedova ma anche madre perché scopre dopo la morte di Carlo di essere rimasta incinta. La situazione quindi diventa drammatica per Rossella perché non soltanto si ritrova appunto vedova quindi costretta ad una vita da reclusa, non poter più civettare con gli uomini come era abituata a fare, non poter andare alle feste, ricevimenti, gli incontri della società, si ritrova anche a dover accudire un figlio che lei non voleva e che probabilmente o comunque non si sente neppure di amare così tanto. Non ha mai amato Carlo, suo marito e soltanto quando si ritrova in questa situazione si rende conto del grande errore che ha fatto. Si sposta ad Atlanta, lascia quindi la piantagione di Tara, lascia la sua famiglia, i genitori e le due sorelle per spostarsi ad Atlanta dove andrà a vivere in casa di una zia, la zia Pitty Pat se non erro comunque sia Pitty e Melania che nel frattempo ha sposato Ashley il quale è partito per la guerra. Vivrà quindi alcuni anni qui ad Atlanta dove la guerra si avvicinerà sempre di più quindi nonostante all'inizio lei si senta, cominci quasi a sentirsi a casa e Melania sia il suo unico legame che è rimasto con Ashley e attraverso di lei cerca di vivere ancora quell'amore che la tormenta tanto piano piano comincerà in realtà a vivere le difficoltà della guerra che si avvicina sempre di più perché nonostante i stati del sud siano partiti con un grande impito, con un grande coraggio con la convinzione di essere imbattibili la guerra insomma farà capire loro che non è assolutamente così quindi viverà il periodo delle restrizioni, dell'alzamento dei prezzi della mancanza di viveri, di beni di prima necessità si troverà a fare dei lavori come quello di aiutare i feriti in ospedale che assolutamente lei non era intenzionata a fare, non amava fare e intanto Melania, dato che Ashley torna per una settimana di congetto per Natale è rimasta incinta e la prima parte del libro si conclude proprio anzi ha ragione Simona Biblionauta che mi ha detto che la prima parte del libro finisce proprio in un punto in cui non dovrebbe finire in cui si ha voglia di andare avanti perché appunto il ventunesimo capitolo termina proprio con Melania che sta per partorire e non c'è un dottore disponibile in tutta la città perché sono tutti impegnati a curare i feriti delle ultime battaglie un'altra cosa che c'è da dire sulla trama è che nel frattempo Rossella ha a modo di conoscere in maniera più approfondita un uomo, Rhett Butler un uomo che ha più o meno 10 anni se non erro più di lei che si mostra molto interessato a Rossella ma in realtà ha un modo molto particolare di mostrare questo interesse in quanto è capacissimo di irritarla sempre perché lui la capisce molto bene capisce, sa leggere la sua mente ecco bene io direi che la trama è questa non mi dilungo oltre perché voglio parlarvi anche di altri aspetti del libro primo i personaggi il primo personaggio di cui vi parlo ovviamente è la nostra protagonista Rossella allora Rossella O'Hara è una protagonista molto particolare e molto insolita direi perlomeno per quanto riguarda le altre protagoniste che di solito ambientano i romanzi che leggiamo questo perché? perché Rossella è piena di difetti piena di difetti primo fra tutti è egoista è egoista in una maniera indescrivibile pensa solo a se stessa e non vorrebbe fare niente che non fosse qualcosa che la rende al centro la porta ad essere al centro dell'attenzione e osannata ecco dagli altri è una ragazza che nonostante nella prima riga del libro venga detto che non è una gran bellezza in realtà sa benissimo come sfruttare il suo fascino e il suo essere donna è capace quindi di tenere ben imbrigati gli uomini di essere al centro della loro attenzione e far credere loro in ogni momento che il suo cuore potrebbe andare ad ognuno di loro cosa che in realtà ovviamente poi non fa è una donna molto superficiale ama i balli, ama le feste, ama i bei vestiti quindi ama una vita tranquilla in cui è servita e riverita in cui non ha obblighi non ha nessun tipo di lavoro da svolgere inoltre è una donna molto vanitosa ed è una donna che giudica molto il prossimo e non è capace molto spesso di provare empatia quasi per nessuno perché mette sempre se stessa al primo posto questo lo vediamo in tutte le situazioni da prima che inizi la guerra fino a quando proprio non vediamo come lei si comporta durante un periodo tanto difficile come appunto quello della guerra lo vediamo quando non vuole assolutamente andare ad aiutare i feriti perché le dannoia l'odore e le fa schifo vedere le ferite e poi non ha voglia di essere in mezzo a tutti quegli uomini che in realtà pensano soltanto a lamentarsi e chiedere acqua e non pensano a lei ecco per farvi capire addirittura ogni argomento ogni volta che si entra nell'argomento della guerra lei è annoiata smette di ascoltare nonostante sia qualcosa che riguarda anche lei personalmente in più c'è da dire che prova un odio profondissimo per Melania un odio mal celato perché appunto la ritiene una persona insulsa e sicuramente non meritevole di essere moglie di un uomo fantastico come Ashley perché lei è comunque innamorata di lui quello che voglio dire su Rossell è che nonostante sia un personaggio che in alcuni punti del libro ci appare molto antipatico perché è così Rossella è una donna che è detestabile ecco in alcuni casi io mi sono ritrovata altre volte invece ad essere a provare un po' più di empatia con lei perché mi sono ricordata la sua giovane età specialmente nel periodo in cui soffre per essere vedova e nonostante noi la incolpiamo per aver fatto un errore così grosso come quello di aver sposato Carlo troppo in fretta e solo per far rabbia ad un'altra persona ecco in realtà un po' ci fa pena e diciamo sì effettivamente ha fatto un errore ma chi non ha fatto errori durante l'adolescenza durante la gioventù e lei sicuramente ha pagato un caro prezzo per l'errore che ha fatto vederla in una sala da ballo in cui tutte le ragazze ballano cercano uno spasimante l'essere costretta a rimanere quasi nascosta dietro a un banchetto e l'unica cosa che può fare è muovere i piedi al ritmo di musica ecco mi ha fatto provare tenerezza inoltre c'è da dire che da una parte mi rimane un po' simpatica questa protagonista perché oggi nella letteratura di oggi si vede molto spesso si vedono protagoniste che sono carine ma non lo sanno che sono molto intelligenti molto colte che sono delle brave persone ed è bello per una volta invece avere una protagonista che è l'opposto che è bella e lo sa e che anzi sfrutta appieno queste sue qualità per un suo tornaconto personale ovvio non è un personaggio da imitare non è un personaggio da cui prendere esempio però è un personaggio interessante sul quale si legge volentieri almeno secondo me il secondo personaggio che vi nomino è Melania Melania è questa giovane donna che appunto sposa di Ashley che viene presentata all'inizio come una donna piuttosto insulsa una ragazza delicata molto sensibile molto timida molto educata anzi direi proprio l'opposto di Rossella è per questo che Rossella prova proprio un'antipatia per lei però allo stesso tempo è una donna chiamata da tutti perché? perché lei viene detto che riesce a vedere sempre il lato positivo di ogni cosa e di ogni persona inizialmente questo personaggio mi rimaneva piuttosto antipatico perché io non mi fido e non mi piacciono le persone che vedono solo il bello degli altri vedono solo il bello di ogni situazione è vero che in realtà sarebbe un pregio ma non puoi essere una persona che vive in questo mondo se vedi solo le cose belle bisogna essere in grado di riconoscere anche quando c'è qualcosa di brutto e inoltre mi sembrava molto debole anche se su questo punto di... su questa caratteristica insomma mi sono dovuta ricredere perché procedendo con la lettura mi sono accorta che Milana in realtà quando c'è bisogno di far valere il suo pensiero quando vuole difendere qualcuno che secondo lei è meritevole di essere difeso allora tira fuori gli artigli sempre con molta gentilezza e con molta educazione ma è capace di essere ferma nelle sue decisioni e questo devo dire l'ha fatta cambiare ecco i miei occhi me l'ha resa un po' più simpatica l'unica cosa che proprio non ho sopportato è il fatto che Rossella veramente non riesca praticamente mai a celare la sua antipatia per Milania e Milania invece continui a ad osannarla a dirle che le vuole bene a considerarla una sorella a pregarla di prendersi cura di lei e così via troppo ingenua cioè una donna lo capisce subito quando un'altra la odia nel senso quando non c'è feeling e quindi questa sua ingenuità nel voler credere che Rossella le voglia bene insomma mi sembra abbastanza a volte quasi un comportamento stupido quindi ci sono alti e bassi ecco in alcuni momenti Milania mi piace in altri invece la trovo un po' troppo ingenua altro personaggio di cui vi parlo molto brevemente Ashley che nonostante non sia praticamente mai presente nelle scene è sempre presente nei pensieri di Rossella quindi è come se fosse sempre lì non mi piace tanto questo personaggio perché è un uomo che non sa quello che vuole perché nonostante sia sposato con Milania la rispetti profondamente quando c'è Rossella e quando Rossella si lascia andare e gli apre il cuore gli dice quanto lei lo ami lui non è in grado di respingerla in maniera molto ferma anzi direi che ce la fa un po' credere e forse è vero che Ashley non è del tutto indifferente al fascino di Rossella e che forse veramente le vuole bene però è un uomo che non mi ha sembrato tanto capace di prendere una posizione anche nel matrimonio con Milania ha fatto semplicemente quello che gli veniva ordinato ecco l'unica cosa che posso dire è che secondo me se Rossella e Ashley fossero sposati non sarebbero stati veramente felici perché secondo me Ashley non è il tipo giusto per Rossella hanno dei temperamenti molto diversi ma lei non se ne accorge perché alla fine lo ha conosciuto soltanto attraverso passeggiate fatte insieme qualche chiacchierata qualche pomeriggio trascorso in sua compagnia ma poi in realtà ecco la vita insieme non l'hanno mai vissuta e secondo me sono troppo diversi perché Rossella possa essere felice con lui un altro personaggio presente nel libro che è il mio preferito in assoluto è ovviamente Rhett Butler Rhett è bellissimo un personaggio meraviglioso allora la prima volta che Rossella lo incontra lo descrive come un uomo bellissimo quindi diciamo che anche noi lettrici ci innamoriamo di quest'uomo immediatamente è un uomo che non ha peli sulla lingua che dice sempre quello che pensa soprattutto sulla guerra ha un'opinione piuttosto discordante con quella di tutti gli altri abitanti degli stati del sud perché è un uomo molto più realista degli altri è in grado infatti di vedere le difficoltà e i problemi che i stati del sud hanno e che sicuramente incontreranno ecco nell'affrontare la guerra ma gli altri sono talmente presi dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di dimostrare che gli stati del nord perderanno e sono più deboli che non riescono nemmeno a vedere le cose più evidenti ovviamente poi tutto quello che ha pronosticato Rett si avvererà inoltre è un uomo che non è mai andato a combattere ma che ha gestito più che altro il traffico di merce attraverso il confine ecco è un uomo che rischia in ogni caso in qualche maniera la propria vita cercando di far arrivare dei beni di prima necessità o anche soltanto dei beni di lusso che non sono più reperibili negli stati del sud attraverso le sue navi è un uomo che però ha sempre ammesso di non fare questo per la propria patria ma per soldi e basta nel senso che lui non voleva questa guerra ma una volta che la guerra c'è tanto vale sfruttarla per riuscire a guadagnarci qualcosa questo ovviamente lo rende completamente impopolare più di quanto già non fosse per una vecchia storia passata che lo vedeva insomma l'aveva già messo in cattiva luce davanti agli occhi delle persone per bene ma in ogni caso ecco lui non cambia lui è così e ne va orgoglioso sicuramente prova un forte interesse per Rossella nella seconda parte della nostra lettura approfondisce il suo rapporto con lei e lei a volte non lo può sopportare ma questo perché perché lui sa essere tanto affascinante quanto irritante perché lui capisce Rossella capisce i suoi pensieri non si fa ingannare non è così diciamo non ha bocca ecco a tutto quello che lei dice come invece fanno gli altri uomini e quindi Rossella si sente impotente molto spesso lui mette a parole i suoi pensieri riesce a capirla talmente bene da farle quasi paura e allora si intestardisce si arrabbia però dentro di sé sa che lui ha perfettamente ragione e a volte la mette anche di fronte alle sue debolezze o soprattutto la mette di fronte ai suoi difetti che lei non vuol vedere e quindi è per questo che litigano spesso in realtà però quando lui si avvicina e in erari momenti in cui mostra di provare dell'affetto per lei o di volerla baciare lei sicuramente prova delle sensazioni molto forti che la stupiscono però le fanno comunque venire voglia di di abbracciarlo di poter stare con lui di poter approfondire questa conoscenza insomma il rapporto tra i due è tutto un alto e basso una montagna rossa ma è veramente interessante mi piace moltissimo ultima menzione per un personaggio molto piccolo che compare poco ma che secondo me è molto importante Elena la madre di Rossella è bello vedere come Elena sia una donna che ha avuto delle difficoltà della vita ha avuto delle delusioni ma che nonostante questo è sempre stata molto diligente molto attenta a tutto quello che le era richiesto dalla vita una donna che ha sposato un uomo al quale è stata fedele per tutta la vita nonostante l'avesse sposato all'inizio sicuramente non innamorata ha messo su famiglia una donna forte una donna che si alzerebbe a qualsiasi ora della notte per aiutare il prossimo per aiutare un ammalato anche uno schiavo quindi una donna che mette sempre gli altri prima di se stessa ed è una donna anche molto religiosa è bello vedere come Rossella ammiri sua madre la rassomiglia addirittura alla Vergine Maria ma nonostante ammiri moltissimo il suo temperamento il suo modo di fare lei non riesce ad essere come sua madre questo la fa soffrire però è così sono due persone diverse nonostante lei si renda conto che sua madre è praticamente perfetta Rossella purtroppo è il suo opposto il secondo argomento di cui vi vorrei parlare è ovviamente il contesto storico che sta dietro a tutto questo siamo come ho detto all'inizio degli anni 60 del 1800 guerra di secessione americana una guerra che ci viene descritta in maniera molto vivida un periodo storico turbolento soprattutto ovviamente per gli stati del sud che hanno dovuto insomma patire numerose sconfitte quindi vediamo non soltanto il modo in cui i stati vivono questa guerra come ci si approcciano come vanno in guerra carichi di tutte le più buone intenzioni di tutte le più grandi illusioni ma vediamo soprattutto come questa poi cambia la vita dei vari personaggi quindi il fatto che i soldati non avessero medicine non avessero abbigliamento addirittura non avessero più le scarpe si muovessero con i piedi avvolti in degli stracci come non arrivasse cibo come tutto la loro guerra diciamo era voleva dimostrare che i stati del sud agricoli erano migliori degli stati del nord industriali ma ben presto sono resi conto che l'agricoltura non è tutto e che le cose che prima importavano non potevano più essere importate i mari sono completamente bloccati mentre gli stati del nord arrivano aiuti anche dall'Europa quindi insomma un quadro chiaro di come si svolge questa guerra anche se le motivazioni che l'hanno fatta scoppiare non sono analizzate nel dettaglio perché gli stati del sud dicono solo di lottare per la libertà per la causa per gli schiavi per l'agricoltura ecco per il loro cotone in ogni caso insomma la parte della guerra è sicuramente molto importante proprio perché influisce direttamente nella vita di tutti i personaggi ma il contesto storico non è reso soltanto dagli avvenimenti reali che l'autrice ci descrive parlando della guerra per l'appunto ma anche da tutto il resto da tutti non so i rapporti tra i personaggi i loro modi di fare le tradizioni i vestiti che vengono sempre descritti in maniera minuziosa tutto questo ci fa capire in che periodo storico siamo che cosa sta accadendo e soprattutto ci fa immergere in un'altra epoca storica in una maniera completa tanto che veramente ci sembra di essere lì sembra di guardare un film io poi i romanzi storici sono pazza dei romanzi storici quindi ho amato veramente tutta la storia diciamo come è resa la parte storica che avvolge le vicende dei nostri protagonisti altra cosa di cui voglio parlare è la scrittura di Margaret Mitchell la nostra meravigliosa autrice bene allora in questo caso mi sono trovata anche a parlare con qualcuno di voi su Instagram e mi è stato detto che alcune parti cioè qualcuno di voi mi ha detto che alcune parti sono risultate un po' lente un po' noiose per me non è stato così io ho letto queste pagine veramente con grande naturalezza anzi volevo sempre andare avanti non riuscivo a fermarmi è vero che l'autrice è molto dettagliata nelle descrizioni ma io amo le descrizioni dettagliate quando sono fatte bene e quindi non mi ha mai annoiata io ho veramente letto praticamente a tutti nelle primissime pagine c'era una descrizione dei campi di Tara al tramonto in una serata di primavera ed era qualcosa di spettacolare l'autrice sembra quasi di leggere una poesia o di vedere un quadro che si dipinge man mano che andiamo avanti nella lettura per me è bravissima ecco da questo punto di vista poi ci sono degli eventi o comunque degli argomenti che approfondisce come può essere per esempio l'Atlanta ecco la storia di Atlanta di come è nata del perché è diventata tanto importante per gli stati del sud la sua ferrovia e così via oppure c'è una parte chiaramente verso la fine di questa prima parte che abbiamo letto in cui si parla molto della guerra delle tattiche degli spostamenti degli eserciti però è tutto secondo me necessario o meglio è qualcosa in più che è qualcosa di aggiunto alla storia che ci permette di capirla ancora meglio quindi non mi sono mai annoiata a differenza per esempio di It dove anche l'anno scorso quando abbiamo fatto appunto il GDL anche Stephen King è molto dettagliato nelle descrizioni però a me alcune volte quelle descrizioni annoiavano mentre in questo caso non è mai successo che abbia pensato si va bene abbiamo capito andiamo avanti no l'ho sempre letto con molto piacere anche perché secondo me sono ben equilibrate con le scene invece dove appunto l'azione si svolge va avanti ci sono dialoghi e così via quindi l'ho trovato veramente veramente bello l'unica cosa fatemi sapere voi come è la vostra traduzione perché nella mia non so come mai ora questo libro magari è un po' vecchiotto vi dico di chi anno è ecco è stato finito di stampare nel 1977 fatto sta comunque che ci sono degli errori grammaticali nel senso che allora vi faccio un esempio di una frase inventata da me però per farvi capire Rossella sta per andare alla festa avrebbe incontrato Ashley e gli avrebbe detto che l'amava ecco in questo caso invece viene scritto Rossella stava per andare alla festa incontrerebbe Ashley e gli direbbe che l'amava non so se vi ho reso l'idea secondo me hanno usato il tempo sbagliato quindi a volte questa cosa mi dà fastidio a volte ovviamente è un errore gli direbbe ma gli avrebbe detto quindi non lo so perché è stato tradotto così forse all'epoca negli anni 70 era un modo insomma diciamo un tempo verbale che si poteva usare anche in questa maniera però in questo caso sicuramente non è così fatemi sapere se voi invece avete trovato questo tipo di errore perché come ho detto io mi riferisco a una versione piuttosto vecchia bene io direi che più o meno ho parlato di tutto ho parlato tantissimo però sicuramente ci sarebbero tante altre cose da dire perché anche mia mamma l'ha letto quando era una ragazzina e ne parliamo via via quando ci sentiamo al telefono e veramente ne parleremo per ore i personaggi sono tutti fantastici la storia è intrigantissima è una storia che prende mi piace il periodo storico che viene raccontato e mi piace Rossella cioè Rossella è una protagonista sulla quale mi piace leggere indipendentemente come ho detto dalle sue qualità o dai suoi difetti è una protagonista interessante quindi niente direi che per ora il libro è assolutamente approvato allora io non mi dilungo ulteriormente voi fatemi sapere come vi ho detto tutto quello che pensate su questo bellissimo libro e vi ricordo che iniziamo adesso a leggere la seconda parte che ovviamente andrà avanti fino al 21 maggio e allora niente io come come ho detto all'inizio vi auguro una buonissima Pasqua e noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao